Il presidente della commissione capitolina speciale per la riforma e la razionalizzazione della spesa, Daniele Frongia, del Movimento 5 Stelle, ha presentato un report delle attività della commissione di alcuni dati sugli sprechi nella capitale. Nel corso dell'incontro sono state avanzate e proposte per rientrare di parte del denaro speso e rispargnare quello non ancora impegnato.